Blanc Pond Blanc Pond Non lo so come si fa a pronunciare Comunque, quella roba lì Ed ora vi spiego cosa mi è piaciuto e cosa non mi piace di questa roba qua Perché dovreste comprarlo e perché no E così alla fine è uscita La collaborazione che in tanti avevano pronosticato, come me, settimana scorsa Tra Swatch e Blanc Pond Vi lascio qui sopra il link per andare a vedere il mio video di una settimana fa In cui anticipavo le mie previsioni per questa nuova collaborazione E' uscito uno scuba, un diver Nella tradizione di Swatch Nella tradizione anche di Blanc Pond Uno dei primi diver a essere uscito sul mercato negli anni 50 E' un orologio nato per celebrare i 70 anni del Blanc Pond Il 50 Fatons Che è del 1953 E alcuni dicono che sia il primo diver della storia Dell'orologeria automatico 50 Fatons, in inglese, sono 91 metri E infatti questo scuba, questo è carino secondo me Ha un'esistenza all'acqua di 91 metri Alcuni pensavano 200, 300, 200, 91 metri Ci fate il bagno In tanti avete commentato sul mio video delle previsioni di questo Swatch O Blanc Pond per Swatch Commentato in maniera negativa Questo indica due cose Che agli appassionati di orologeria Delle operazioni di puro marketing come questa Non interessano, anzi Si rivela forse in maniera negativa E d'altro canto Secondo me Delle operazioni di marketing Così chiare Così per accappararsi i soldi Di chi non è appassionato di orologeria Meccanica È una maniera molto molto intelligente per promuovere il marchio Swatch E uno dei suoi marchi Tra cui Omega, tra cui Blanc Pond, tra cui un sacco di altri marchi Swatch è un gigante conglomerato di brands E secondo me fanno bene a fare questa operazione di mercato Come l'anno scorso è successo per il Moon's Watch Questa collaborazione è stata un po' più in sordina Ho visto che ci sono delle code C'erano delle code comunque dalle 4 e mezza del mattino Sia allo store di New York sulla Fifth Avenue Sia in via del Corso a Roma Alcuni mi hanno detto anche a Napoli Insomma Ci sono state code E quasi tutti di probabilmente resellers Perché ho già visto su eBay Prima ancora che lo presentassero questa famosa collaborazione Reseller che lo vendevano già a 1.200, 1.500, 1.900 Addirittura 10.000 Tutta la collezione Non ho ancora visto tra i venduti E a che prezzo sono stati venduti questi orologi Quindi io posso anche metterlo a 100.000 euro Poi non è detto che lo vendo È uscita questa collaborazione come in tanti avevamo pronostitati Applicato Blank pen per le parole di Jean-Claude Beware Back in the days Avevano assicurato ai loro fan Che non avrebbero mai prodotto un orologio al quarzo Infatti non è al quarzo Questo orologio nuovo di Squatch Scuba per 51 Fatoms Chiamiamolo così Utilizza il sistema meccanico di System 51 Si chiama così Di Squatch Che è un movimento Sì meccanico Sì automatico Ma non si può riparare Perché è fatto a sandwich Una volta composto il movimento E una volta che si rompe Si butta via E questa è una delle cose che Mi piacciono meno di questa collaborazione Il movimento È automatico È di proprietà di Swatch È il primo Unico movimento automatico Che Swatch ha nella linea di suorologi Il fatto è che lo si può trovare anche in altri orologi Pure di metallo Da 180 170 190 euro Quindi 400 Non sono giustificati Dal fatto che è un movimento meccanico Il problema di questo movimento è che è fatto a sandwich E una volta chiuso Non si può più riaprire Praticamente una volta chiuso e compattato Il fondello dell'orologio Tu non lo apri più Non esiste una riparazione Non esiste un service È chiuso È fatto così Se lo apri si distrugge Quindi praticamente Non è una cosa che funzionerà Per i prossimi 20 anni 15 anni Li do tra 5-10 anni E quello lo buttate via Fondamentalmente questa collaborazione È stata fatta per Con l'intento anche di preservare la natura L'oceano, il mare Infatti sono i 5 oceani Tra l'altro Quello bianco-azzurro è il più bello Gli altri per me Gli altri proprio non mi piacciono Oltre al fatto che quello bianco-azzurro È l'unico senza data È l'unico senza scritte sotto Ma insomma Ha delle caratteristiche Che particolarmente mi aggradano Lo comprerò mai Un orologio di In bioceramica Cioè in plastica Di 400 euro Non credo Ero interessato anche il Moosewatch Non l'ho comprato Perché dovreste comprarlo voi? Non lo so Se non siete appassionati di orologeria Se vi state affacciando su questo mondo Su questo hobby Vi siete affacciati da poco Molto probabilmente siete interessati A questo orologino molto interessante Sempre di plastica Sempre con un movimento meccanico Che se si rompe Buttate via tutto Quindi alla faccia Delle cose riciclate Sì hanno fatto il cinturino In nato Da plastica Delle reti Da pesca Riciclate O della plastica Che hanno trovato nell'oceano Hanno fatto Ok I nato strap Di questi orologi Sono in plastica riciclata È ok Però tutto l'orologio Si può riciclare anche nella plastica Ma si butta via Quindi non mi sembra Non mi sembra molto green Come operazione Però d'altro canto Swatch riesce a farsi Una pubblicità pazzesca Anche grazie ai blogger Ai video blogger Come me Ai vlogger Ai giornalisti Dei siti Di orologeria Perché comunque tutti ne parlano E quindi Parlandone tutti Comunque anche Con i commenti negativi La voce si sparge Come è stato l'anno scorso Per i Moons Watch Che ho sentito su Radio DJ C'era su Repubblica Il Corriere Tutti ne parlavano Blank Pen ovviamente Rispetto a Omega Rispetto al Moons Watch È molto meno famosa Però I Fifty Fatoms Anche gli Alcuni appassionati di orologia Probabilmente non sanno Nemmeno cosa sia Rispetto al Rolex Submariner O un Omega Seamaster Quindi Comunque hanno alzato la polvere Su questo orologio Da 10.000 12.000 euro Quindi uno Che si compra un orologio di plastica A Swatch Da 400 Poi va a comprarsi Un Fifty Fatoms Da 12.000 No Però è tutta pubblicità gratis È tutta pubblicità gratuita E anche le code in strada Sono pubblicità gratuite Se uno sta lì a aspettare Dalle 4.30 A Swatch Non interessa molto Non hanno imparato molto Dall'ultima volta O comunque Dall'ultima volta Del Moons Watch E da tutta la pubblicità negativa Che c'è stata Da quella operazione Non hanno imparato molto Perché non gli interessa nulla Voglio dire È tutta pubblicità È tutto un parlare Di un brand Blank Pan Che in pochi conoscono Fuori da noi Dal nostro cerchio Super ristretto Del 1.0.5% Agli appassionati Che magari lo possono vedere È come un'alternativa Un'alternativa al Seamaster Un'alternativa al Submariner Gli orologi Quindi come ne esce E quindi come ne esce Swatch Da questa cosa Beh sicuramente Sicuramente ne escono più ricchi Di prima Sicuramente hanno Rinverdito i fasti Forse un po' troppo Dire così Però comunque Hanno fatto conoscere Il nome Blank Pan A molte più persone di prima Ma tantissime di più Sia che lo vendono Sia che non lo vendono Non lo vendono online Esattamente il discorso Che hanno fatto Per il Moose Watch Quello è la get away Drug Si dice in inglese Cioè È la droga d'accesso Una persona che Che mette il piede Nel negozio Swatch Se non lo trova Magari compra qualcos'altro Per la ragazza Per la figlia Il figlio Il flick fuck In un negozio Swatch Se non trovi quello Magari si è attirato Pure da qualcos'altro Quindi Per loro È un'operazione vincente Non c'è Non c'è niente da fare E E noi Appassionati di orologeria A me Personalmente Non me ne frega molto Nel senso che Non è fregato Nemmeno nulla Per il Moose Watch Mi Mi fa solo un po' strano Questa cosa Dell'orologio Green Che alla fine Green non è Perché di plastica è Di un movimento Che si butta via Se si rompe È fatto così Detto ciò Poi È noto che Swatch Da sempre Fa orologi Usegetta Però Costano 50 60 euro Durano Un po' di anni E poi Quando smettono di funzionare Amen Quindi forse Forse era meglio Fare questo orologio Al quarzo Anche se La gente Che già si arrabbia Nei commenti adesso Si sarebbe arrabbiata Ancora di più Però Non sono Voglio dire Con tutti i commenti negativi Che ho visto Sembra che la gente Si arrabbi proprio Per una cosa del genere Secondo me ci sono cose Più importanti al mondo Per arrabbiarsi Che per un orologetto Di plastica Fatto da Swatch Che sfrutta Un marchio Molto importante Storico Dell'alta orologeria Facciano quello che vogliono Voglio dire Alla fine Nessuno ti obbliga A comprarlo E se non ti piace Non lo compri E se non ti interessa Non lo compri Io lo voglio Come al solito Vedere dal vivo E poi decidere Se decidessi Mi piace quello Dell'oceano artico Ovviamente Secondo me è l'unico È l'unico lì dentro Quello giallo e nero Quello verde Mamma mia che colori assurdi No per niente Poi i dial I quadranti Col colore gradiente Non mi piacciono per niente L'unico è quello lì Quello bianco e azzurrino Però le dimensioni Sono importanti Sono un lug to lug Da 48 mi sembra È 42 Spesso quasi 15 mm È un po' troppo Per il mio polso Ah RISWAT check Ovviamente sono in montagna E ho indosso Il mio TGV O Islander Per TGV Rangemaster Noi lo mettevo da un bel po' In montagna ci sta benissimo Col mio cinturino Ne ancora un paio di questi Into the limelight Tipo Marine Nationale Detto anche che a me Personalmente le collaborazioni Piacciono sempre Perché Mi sembrano fantasiose Creative Comunque Qualsiasi cosa Due brand Facciano insieme Io sarò sempre interessato A quella roba lì Poi non mi piace Particolarmente Il retro Col fondello A vista Aperto Non lo so Ci sono dei disegni Proprio brutti Secondo me Cioè Delle cose Colorate Che Stonano Con il Con la parte Anteriore Dell'orologio Quindi Bah Quello non mi convince Mi convince Proprio per niente Comunque Di nuovo Scrivetemi tutto quello che pensate Qui sotto nei commenti A proposito di questa collaborazione Puro marketing Tra Squatch e Blampon Ci vediamo alla prossima Ciao